Claudia Antonioli, un pensionato di 70 anni, residente a Vigevano, Pavia, è tragicamente deceduto domenica 25 agosto dopo essere caduto dal secondo piano di un edificio in via Alfieri, vicino all'incrocio con via Pascoli. Antonioli stava aiutando un amico con alcuni lavori di manutenzione nel suo appartamento, quando per motivi ancora da chiarire ha perso l'equilibrio mentre era in piedi su una scala pieghevole. La caduta da circa 7 metri è stata fatale. L'uomo ha battuto violentemente la testa al suolo entrando in coma. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 mentre Antonioli si trovava sul balcone probabilmente impegnato a ritinteggiare una parete. Gli agenti del commissariato di Vigevano hanno ricostruito la dinamica dell'incidente, confermando che la caduta è stata accidentale. Nonostante l'intervento tempestivo del personale medico del 118 e dell'isoccorso inviato da Milano, che ha trasportato Antonioli al policlinico San Matteo di Pavia, l'uomo è deceduto poco più di un'ora dopo il ricovero. La salma di Antonioli è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che deciderà se disporre un'autopsia, anche se la natura accidentale dell'evento sembra confermata. L'incidente ha scosso la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia del pensionato.